rotazione sotto e la prende l'altra in sgambata. Quello è un momento nella prima parte proprio dell'esercizio che mi lascia sempre a bocca aperta totale. Quindi bravissima Sofia, non vedo l'ora di vedere il suo punteggio, nel frattempo ricomincio a giro. E' un'aberta, un'aberta con il giro. Grazie a tutti Grazie a tutti